Radio Roma Capitale, informazioni sulla città. Prorogato al 4 marzo, il termine per partecipare al concorso di cortometraggi Memoria Corta, dedicato alle tematiche della memoria storica e contemporanea italiana. E ancora, si tiene domenica prossima alle 18.15 alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio, non capisco la direzione dei venti, uno spettacolo in cui si fondono esperienze di musica e poesia. Ma come sempre 060606 o comune.roma.it